Si fa sempre più delicata e preoccupante la questione Brioni. Dopo i tavoli tecnici per evitare gli annunciati esuberi di 321 lavoratori nei tre stabilimenti siti in area vestina e la fine del blocco dei licenziamenti da parte del governo, questa mattina si è tornati a parlare del marchio di moda maschile francese presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante l'incontro svolto in modalità telematica si è concordato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per crisi che coinvolge tutti i 1014 dipendenti di Roman Style. Durante l'incontro l'azienda ha confermato l'eccedenza di 321 dipendenti e provvederà all'anticipo dell'indannità di cassa integrazione che va a sostituire così la cassa Covid in scadenza a fine mese per tutto il periodo richiesto che andrà dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. L'ammortizzatore sociale sopra citato potrà essere utilizzato collocando il lavoratore in cassa integrazione straordinaria parziale ed anche a zero ore lavorate. Presenti al tavolo oltre al Ministero del Lavoro Confindustria Chieti, l'azienda Brioni e le organizzazioni sindacali nazionali e locali. Proprio quest'ultime hanno ribadito ai vertici aziendali e al Ministero di non procedere con azioni unilaterali, ovvero portare avanti delle soluzioni atte a non mettere in ginocchio ancora di più il tessuto socio-economico di un'area già fortemente colpita dalla crisi negli ultimi anni.